Bentornati! Allora, cosa possiamo dire di questa prima della scala? Innanzitutto vi voglio dire che me la sono rivista quasi tutta, tra stanotte e stamattina, perché volevo avere, come dire, la certezza che certe impressioni che avevo avuto fossero state corrette. La maggior parte le ho avute assolutamente confermate, su qualcosa devo dire forse mi sono dovuto ricredere. E quindi modificherò magari un primo giudizio che posso aver dato dal vivo, nel caldo dell'esecuzione delle live che abbiamo fatto ieri sera. Devo dire che la cosa che più mi ha stupito ancora, devo dire, dopo tanti anni, è il fatto che la gente si accapigli e che è una gran fortuna, che va bene così. Cioè, a dire, il fatto che la gente discute in maniera così appassionata e accalorata, riguardo soprattutto alle voci, evidentemente, è un'ottima cosa, è quello che tiene in vita su altra scala, su altra misura, il calcio alla fin fine, che la gente stia, dopo la partita, a litigare. No, ma quello è un terzino, è un mediano, ma quello non è capace di rifare pressing, eccetera, eccetera. Ecco, insomma, fondamentalmente è la stessa cosa che facciamo nell'opera, in realtà, anche da qualche annetto prima che lo si facesse nel calcio, ed è quello, tutto sommato, che tiene viva l'opera. Tanto è vero, e di questo ne avremo conferma nel video che farò domani pomeriggio con le vostre pagelle, quelle che avete dato votando e che state ancora votando sul community tab del mio canale YouTube, dove vedo già da ora degli giudizi assolutamente opposti, cioè, soprattutto riguardo ai cantanti, i voti vanno dal 4 all'8, quindi qualcuno ha trovato quel o quella cantante assolutamente insufficiente e qualcuno l'ha trovato eccellente. E qui, just, non abbiamo un problema, perché è giusto discutere, è giusto la dialettica, è giusto anche lo scontro, insomma, sempre nel limite, ovviamente, delle buone educazioni, e va bene, però devo dire, insomma, che dare un giudizio così diverso su un cantante mi fa pensare che dovremmo avere comunque dei punti fermi, cioè dovremmo avere al netto del gusto che è personale, e quindi una certa voce, un certo tipo di vocalità, forse più che di voce a me può piacere e al mio amico no, al netto di certi dati oggettivi, nel senso di intonazione è intonazione, e se non è noto di intonata, non è intonata, e al netto del fatto che questi signori, ancorché famosi e ben retribuiti, sono degli esseri umani, quindi dobbiamo concedere a loro quello che si concede a chiunque al mondo, e a maggior ragione chi sale su un palco, c'è la possibilità anche dell'errore, al netto di questo, dicevo, ci dovrebbe essere, come dire, una maggiore uniformità di giudizio, io lo valuto da 6, tu lo valuti da 7, ma io lo valuto da 8, tu lo valuti da 4, insomma, vabbè, ma di questo parleremo meglio, parleremo meglio nel video domani con le vostre pagelle, se ne avete ancora votato, fatelo. Parliamo invece delle cose che mi sono piaciute della prima di ieri sera, mi sono piaciute scene e costumi, molto tradizionali, devo dire, non rivoluzionari, ma forse non era questo il contesto di fare qualcosa di rivoluzionario, molto eleganti, belli, in particolare i costumi, devo dire, mi sono piaciuti. Non mi sono piaciute altrettanto le luci, tutto molto cupe, molto cupe, che può anche avere un senso simbolico, lo scurantismo, l'amore che non trova uno sfogo, per l'amor di Dio, tutto può essere, però da in qualche punto mi aspetto, in un qualunque spettacolo teatrale che io veda, con la scelta di avere delle luci molto cupe, molto oscure, che a un certo punto questa cosa in qualche maniera trovi uno sfogo e storicamente in quest'opera lo sfogo si trova alla fine atto nella scena dell'auto da fè, che generalmente è proprio la scena in cui la luce del fuoco fa da contrasto a tutte le tenebre e a tutta l'oscurità che abbiamo visto fino a quel momento. Qui non c'è stata, la scena dell'auto da fè è stata una scena più triste che io abbia visto in vita mia d'opera, nel senso che sembrava veramente il mio barbecue di Pasquetta, quindi brutto, 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 brutto. Non mi è piaciuta la regia, proprio zero, nel senso, adesso senza entrare nella questione, regia tradizionale, regia innovativa, è stata una regia tradizionale e in questo senso mi sta bene. Però tradizionale non vuol dire statica, tradizionale non vuol dire noiosa in altri termini e invece io vi ho assistito veramente una regia immobile. Cioè, è stata fatta la regia come l'avrei fatta io se mi essero chiamati in emergenza e dice, Vito, sono morti tutti i registi del mondo, mi dobbiamo fare la prima scala, devi far tu la regia, io avrei detto, guardate che io non sono un regista e la scala mi avrei detto, sì, sì, guarda, ma non abbiamo proprio nessun regista sul pianeta, devi far tu la regia e quindi sarei andato e avrei fatto una regia come quello che ho visto ieri sera. Avetevi cantati, muovetevi il meno possibile, le fatte meno danni possibili, tu entri qui, ti rivetti al pavimento, non guardi neanche l'alto quando ti sto parlando e appena finito di cantare esci. Cioè, le famose tre frasi che facevano i cantanti ai tempi dell'opera lirica, cioè, da dove entro, dove esco, dove muoio. Ecco, avrei risolto questi tre problemi e avrei fatto la regia che avete visto ieri, che ho visto anch'io ieri, che ripeto, assolutamente non mi è piaciuta. Cosa mi è piaciuta? Mi è piaciuta la parte musicale, orchestra, molto buona, coro strepitoso, come quasi sempre, insomma, il coro della Scala C'è abituato da tanti anni e dalle performance di altissimo livello, e mi è piaciuta anche la direzione al maestro Shahi. Concordo con chi ha scritto che non ci sono stati e non ne ho sentiti anch'io francamente dei preziosismi timbrici o dinamici particolari. Però la lettura che ha fatto è molto corretta dal punto di vista di quello che ha scritto, cioè ha eseguito l'opera come l'ha scritta il nostro amico Peppino e anche, secondo me, i tempi erano assolutamente congrui e coerenti con quello che, con la lettura che è stata data dell'opera, quindi, ripeto, anch'io senza aver visto qualcosa che mi abbia sconcertato e sconvolto per, però devo dire, una lettura molto lucida di un'opera comunque difficile, un'opera faticosa, di un'opera molto impegnativa per il direttore, insomma, e quindi, e devo dire, insomma, che Shahi da questo punto di vista diretto molto bene e non si può, non si può che dire altro. Pensavo che ieri durante la live un di voi mi ha chiesto ma come mai durante la prima della scala non si fanno mai opere buffe ma sempre opere drammatiche, opere tragiche. Io al momento non ho saputo dare una risposta, poi la risposta però ce l'ho adesso. la ragione è che la gente che va lì che ovviamente chi assiste a prima della scala nel 90% dei casi e gente che non ha mai non è mai entrata in un teatro proprio in vita sua se no appunto proprio in una scala come evento mondano è giusto secondo me come dire strapazzarli un pochettino e se l'opera è anche un po' lungo noi osa tanto meglio l'opera un'opera divertente potrebbe farli appunto sollazzare e divertire troppo e la cosa non andrebbe bene perché poi insomma poi 20 giorni dopo si leggono anche le cavolate che hanno o si vi sentono le cavolate che hanno detto spesso usando dei termini che non stanno né in cielo né in terra insomma nel senso mi sta anche bene che tu personaggio pubblico legittimamente non appassionato d'opera e ci mancherebbe pure non è materia di fede vada alla prima la scala solo perché è un evento mondano perché per certi versi ti tocca per altri versi ci vuoi andare per far vedere che c'eri anche tu e vabbè questa cosa alla fine mi può star bene e rientra nella normalità di questo genere di questo genere di chermesse questo genere di spettacolo però molte volte insomma sono persone che ostentano un po' non voglio dire tanto una conoscenza o l'essere esperti perché se non se non lo sei non lo sei e non puoi fingere di esserlo però molte volte come dire ostentano ah io sì l'opera l'amolo quando ero bambino in realtà poi non sanno neanche chi ha scritto la traviata ecco a questo proposito di traviata è venuto in mente quello che ha scritto quello che ha detto un sale in un'intervista dove ha detto ah mi è piaciuta molto bella quest'opera mi è piaciuta la musica cosa che dico a voi insomma ci conferma che questo Giuseppe Verdi è un ragazzo di belle speranze e mi è piaciuta la sceneggiatura che non so francamente cosa voglia dire insomma il termine sceneggiatura nell'opera lirica non ha nessun senso c'è la storia c'è la trama c'è il libretto ma il termine sceneggiatura proprio non non so cosa intendesse però gli è piaciuta e questa cosa ci dà e questa cosa ci fa molto piacere ma fatta questa lunga forse introduzione parliamo dell'unica cosa che veramente vi interessa cioè i cantanti che sono alla fin fine come insomma giustamente i veri protagonisti o quantomeno i protagonisti più attesi di un'opera e quindi è giusto che il grosso del il grosso delle opinioni e anche delle divergenze evidentemente si concentri su di loro allora grande inquisitore allora al netto del fatto che la parte è una parte molto difficile insomma e ancorché non lunghissima ma sono con oltre due ottave di di estensione e quindi insomma non è esattamente cioè mentre un Giorgio Germont lo potremmo trovare in mezz'ora alzando il telefono un sostituto un grande inquisitore bravo non è esattamente che si trovi a ogni angolo di strada insomma io credo insomma che quindi la sua la sua resa sia stata adeguata con anche qualcosa 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 di bello sono state anche delle cose belle ci sono stati un fa diesis e il mi basso insomma che forse non erano proprio leggendari ma va bene insomma comunque secondo me è stato assolutamente all'altezza della situazione andiamo avanti con Elina Garancia che è stata quella tutto sommato insieme al grande inquisitore che nella vostra nella vostra classifica quindi delle pagelle che daremo domani è stata quella con meno sbalzi ecco diciamo così nessuno l'ha trovata insoddisfacente e i giudizi vanno dal così e così all'eccellente quanto meno non vanno dall'insufficiente all'eccellente io credo che abbia cantato bene a me è piaciuta cantato bene è comunque una signora mezzo soprano veramente molto brava tecnicamente appostissimo forse anche quella che scenicamente ha dato di più se devo dirvela tutta e quindi secondo me la sua performance è stata assolutamente di livello e nella mia valutazione è una buona performance andiamo avanti Filippo II il carissimo Pertusi che non a tutti è piaciuto io credo che al netto il fatto che probabilmente sapete insomma che non era in gran forma Meyer nell'intervallo alla fine del secondo atto insomma ha anche detto sembrava una brutta notizia sembrava che fosse morto qualcuno invece per fortuna stavano tutti bene e vabbè insomma era una sorta di disclaimer per dire che Pertusi non era in gran forma fisica che comunque avrebbe continuato la recita secondo me alla fine ha retto bene insomma forse non è proprio il suo ruolo perfetto su questo concordo con buona parte di voi però secondo me insomma soprattutto con l'aggiunta di non essere al cento per cento secondo me l'ha portata a casa con grande sapienza grande professionalità e e nel complesso a me è piaciuto insomma non vi voglio dire esaltato no non mi è esaltato ma secondo me il motivo per cui è stato chiamato è stato ampiamente confermato Luca Salsi Rodrigo è un altro su cui sono concentrate una certa si è concentrato una certa divergenza d'opinioni io credo che abbia fatto bene il suo lavoro forse questa parte da buono diciamo così non gli si addisce al cento per cento e nella mia percezione come dire non è forse nella sua nella sua natura non è nel suo proprio nel suo corde il fatto di farmi una parte così elegante come dovrebbe essere a parte di Rodrigo anche così nobile eccetera eccetera però insomma dal punto di vista vocale sì va bene un paio di cose un po' sfocate però ribadisco non dobbiamo andare a cercare la perfezione andare a ascoltare un'opera anche se l'opera anche se l'evento lirico teoricamente più importante del mondo è quello che è quello che volete non ci deve far andare al fucile al teatro col fucile puntato non dobbiamo avere questo atteggiamento dobbiamo avere l'atteggiamento di pretendere una performance di livello insomma anche perché insomma stante l'importanza dell'evento e se siamo lì stante quello che abbiamo pagato è giusto che ci aspettiamo una performance di livello però non stiamo a quel punto lì la voce era un po' appannata secondo me è l'approccio sbagliato con cui valutare una cosa a me lo chiede ripeto non si tratti di errori clamorosi insomma ecco e comunque anche l'errore clamoroso può capitare capitava anche a Pavarotti insomma può capitare anche agli esseri umani per cui insomma nel complesso secondo me ha fatto una buona una buona performance non sono convinto appunto che abbia in sé questa quella nobiltà e quell'eleganza che forse il ruolo di Rodrigo richiederebbe ma al netto di questo secondo me è stato assolutamente adeguato per il posto in cui si trovava e andiamo ai due ai due finali quelli che probabilmente tutti state aspettando Anna Netrebko ho letto da tante parti non è il suo ruolo non è io credo io credo che sia una cantante che forse appunto la soprano più importante del mondo e che sia una cantante di assoluto di assoluto livello sono altrettanto convinto che in certe cose ieri sera abbia cantato con molto mestiere molta professionalità molta esperienza e anche molta tecnica quindi non dirò che tutto quello che ho ascoltato mi ha fatto impazzire però errori non ce ne sono stati questo dobbiamo dobbiamo assolutamente rilevarlo e alcune cose sono state fatte anche bene e voglio dire è da quella che dovrebbe essere se non la soprano più importante del mondo o il soprano più importante del mondo almeno nella top 3 insomma non ci si attende niente di meno che qualcosa di come dire con una performance adeguata all'importanza dell'evento e del teatro che ti sta che ti sta ospitando e che ti ha chiamato per credo la sesto settima volta per la prima scala però insomma devo dire io ho ascoltato anche delle belle dinamiche ho ascoltato comunque un fraseggio molto coerente con quello che ha scritto molto di più di quello che ha fatto la grancia che si è presa qualche libertà in più per cui non vi dirò che la performance mi ha entusiasmato perché mi ha entusiasmato però secondo me è stata anche lei all'altezza della situazione e andiamo al punto più interessante che lo so che lo state aspettando tutti la performance di Francesco Meli allora vi ho già detto io ho sempre avuto un debole per debole per Meli lo seguo da tantissimi anni e gli ho sentito fare una lunga serie di performance assolutamente notevolissima quella di ieri sera non entrerà sicuramente tra queste performance sono convinto anch'io che che la performance di ieri sera non sia stata adeguata all'importanza dell'evento all'importanza del teatro e all'artista che Francesco Meli è poi qualcuno ha detto e dirà ma sono anni che la voce non è più insomma abbiamo parlato ieri sera nella live quello che secondo la mia personalissima e quindi assolutamente in influente opinione dovrebbe fare un cantante nella situazione di Meli però se volete andatevelo a sentire la registrazione della live cosa dire quindi della sua performance che è al netto appunto del fatto che secondo me non sia stata adeguata è comunque un signor professionista è un bravo artista e soprattutto il primo atto è stato ha cantato decisamente meglio in tutta l'opera comunque ha usato un fraseggio molto molto giusto molto coerente un quanto scritto da Verdi in questo probabilmente anche quadruvato magari anche forzato ecco dal messo Shai senza dubbio che lì apposta non per niente però soprattutto il fraseggio a me è piaciuto è stato veramente un paio di punti anche coraggioso in certi punti ha unito in unica frase due frasi che avrebbero potuto volendo anche separare insomma e questo va sicuramente a suo merito il problema di ieri sera e forse in generale degli ultimi tempi della carriera di Meli sono gli acuti e certo gli acuti non sono tutto indubbiamente però voi capite che un tenore che ha problemi con gli acuti è come un attaccante che ha problemi col gol può essere bravo può fare la sponda può fare tante altre cose ma se poi lui in primis non la butta dentro insomma il pubblico da un attaccante si aspetta che faccia gol ed è più che comprensibile allora vediamo allora una cosa molto importante voi lo sapete io non amo le perle nere e quando ne parliamo lo faccio sempre con rispetto dovuto a un artista e con la fallibilità che dobbiamo assolutamente riconoscere a qualunque essere umano e ovviamente a qualunque artista quindi non si ascolta mai come dire un errore o una cosa con l'intento di dileggiare nessuno soprattutto quando è un grande professionista un grande artista lo facciamo solo per confrontarci e per avere la conferma che quello che abbiamo ascoltato live fosse effettivamente come poi è stato perché molte volte lo sapete molte volte la percezione può anche essere sbagliata magari sentiamo una nota che non è giustissima e poi andiamo ad ascoltare e diciamo vabbè non era così terribile allora vediamo vediamolo il primo sì naturale decisamente non venuto che sto veramente facendo sto volando basso io qui lo giuro al cielo sarò tuo salvator ovviamente il sì naturale proprio non c'era non possiamo definirla una stecca vera e propria come quelli che fanno crack però insomma questo che è il punto più delicato e un po' tutti anche insomma che un po' tutti aspettano devo dire insomma che chi ha sbagliato il gol ecco non a porta vuota perché è un punto per l'amor di Dio impegnativo però ecco questo proprio è stato un errore abbastanza clamoroso andiamo avanti quarto atto e sentiamo quest'altro punto è brutto anche questo l'ha fatto con grande professionalità perché ripeto sul fatto che sia un professionista con la P maiuscola non si discute però era oggettivamente brutto e andiamo all'ultimo punto incriminato il finale dove insomma era evidente insomma che già non ne aveva più da un pezzo e l'ultimo passaggio si naturale sicuramente insomma anche lì l'ha risolta l'ha mascherata molto poi insomma era insieme a lei e quindi questa cosa gli ha un filo semplificato la cosa rispetto all'essere solo però insomma direi che ci possiamo ascoltare la buttata la buttata via si è nascosto dietro dietro come dire dietro le spalle di lei e vabbè insomma e l'ha chiusa così che dire quindi in conclusione che non credo che sia una stata una una prima che resterà negli annali non credo che fra 50 anni diranno ah ti ricordi il Don Carlo del 23 insomma no questo non credo che sia una una prima che ricorderanno i posteri però insomma questo ci deve comunque far pensare che abbiamo il sacrosanto diritto di criticare come ho detto all'inizio di video insomma la critica è anche quella che rende viva e frizzante la nostra passione per l'opera però mi raccomando facciamolo sempre con il rispetto che ho dovuto a ogni artista e a qualunque persona che salga su un palcoscenico non facciamo che a volte il nostro essere tifosi di una di una parte o addirittura sfegatati tifosi insomma ci porti a farci perdere il rispetto che è sempre dovuto comunque a un artista e a chiunque ribadisco salga sul palco per cui vi ringrazio vi ricordo l'appuntamento di domani con le vostre pagelle per cui se non avete ancora votato fatelo avete tempo fino a domani mattina poi domani pomeriggio for il video con le vostre pagelle di questa prima scaligera a domani grazie a tutti